Tutti da salutatori eccoci qui con la grandissima Silvia Salemi premiata dallo straordinario Fabrizio Pacifici Dallo straordinario Fabrizio Pacifici, 15esimo edizione e non potevi farci il premio migliore così di pegnare Silvia che ci ha fatto sognare Ma sì perché lei è romana d'adozione ma ormai più romana di tanti romani Romanistissima Ecco qua e noi siamo tutti rubacchiotti, tutti romanzissimi sempre con Fair Play Fair Play e con l'amore del calcio quello vero insomma, del grande rispetto Esatto e con la pocosia e ovviamente l'ottimo collubio Ciao